Due noti all'almanacco di Pavia 1 TV Lombardia Live 24, 12 gennaio 2022, 22esimo giorno dell'anno, seconda settimana, alla fine del 2022 mancano 353 giorni. A Roma sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.01, a Milano sole sorge alle 8.01 e tramonta alle 17.01, la Luna si leva alle 7.05 per tramontare alle 16.09. Oggi festeggiamo Santa Giovanna Francesca di Chantal, San Corentino di Chimpere e San Valerico Abate. Giovanna il maschile di Giovanni deriva dall'ebraico Ionanan, composto da Iò o Ià, che è l'abbreviazione di Yahweh, o Jehova, nome proprio di Dio nella tradizione ebraica, e da Ianan che significa Ebbe misericordia, cioè Dio ha avuto misericordio, anche dono del Signore. In passato veniva imposta una figlia attesa e desiderata da tanto tempo è nata quando ormai si erano perse le speranze. Il proverbio del giorno, pane finché dura, ma il vino a misura. L'orismo del giorno è di Bacone, l'uomo saggio, si costruisce più opportunità di quante ne ha trovate. Accadde oggi nel 2010 il terremoto da Iti con più di 230.000 vittime. La terra trema nel Mar dei Caraibi, un violento terremoto che colpisce l'isola, seminando morte e distruzione soprattutto nella capitale Porto-Prince, rettando la nazione più povera nell'Astrico. Se nato oggi hai una vita solida, serena, che hai saputo costruire con pazienza, tenacia e impegno. Il lavoro si è apprezzato per l'affidabilità e la precisione con cui svolgi i tuoi compiti. In amore hai punti in genere su un partner che come te preferisca la tranquillità ad un rapporto sicuro alle emozioni d'avventure precarie. I compleanni famosi Bruno Arena, comico, cavarettista, attore italiano, insieme a Massimiliano Cavallari, forma il duo comico dei fichi d'India e Maddalena Corvaglia, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e sciocorra italiana. Tutte le vostre informazioni, consigli e suggerimenti a info.pavia1tv.it oppure info.lombardierai24.it o ancora via whatsapp al 389 2566 296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo Armanacco. Grazie. 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 Grazie.